Oggi come vedete il segreto è uscito, l'ho riletto tre volte per riprendere confidenza con una vicenda che ha segnato la mia vita, l'ostinazione ha vinto, guasta feste della memoria mi ha definito con amicizia e simpatia l'ambasciatore Sergio Romano, ne sono fiero. Così a pagina 323 del segreto Antonio Ferrari, il giornalista del Corriere della Sera che lo ha scritto uno squarcio enorme sulla vicenda Moro ed è per questo che dobbiamo ringraziare davvero BCC San Marzano per aver voluto interpretare l'ansia di conoscenza e organizzare la presentazione di questo libro nell'Università di Taranto. La storia che è maestra di vita. Sì, continuiamo imperterriti nella nostra attività di risveglio culturale della nostra città, siamo qui alla Caserma Rossarola all'Università, quindi posto magnifico già di per sé ad ascoltare Gero Grassi e il dottor Ferrari. Maldomoro ha frequentato il nostro liceo Archite, è sempre stato affezionato a Taranto. Stasera lo ricordiamo, lo ricordiamo purtroppo nella fase finale della sua vita, quella della tragedia che lo ha occupato. Ma il segreto è un romanzo, è un documento prezioso perché fu scritto 40 anni fa e non glielo pubblicarono perché il Corriere della Sera era nelle mani della P2 e non lo pubblicò, la P2 è tutta dentro il caso Moro. Oggi noi abbiamo una verità che viene dalla commissione d'inchiesta e che sostanzialmente dice che Moro viene rapito perché Russia e URSS non vogliono in Italia la democrazia compiuta e non vogliono che Moro sovverta gli accordi di Yalta, quindi est alla Russia, ovest agli Stati Uniti e le colonie agli inglesi. Così Gero Grassi, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare, insomma squarci di politica internazionale, di accordi al di sopra delle nostre teste, come al solito, su uno dei casi irrisolti della nostra Repubblica. Aldo Moro doveva morire. Non ho mai creduto al partito della trattativa, mai. Forse lo stesso Moro ha avuto, nel momento in cui era prigioniero, l'idea che ci potesse ancora essere. È chiaro che quando sei in una posizione di costruzione assoluta forse ti aggrappi a tutto, ma un uomo un uomo con la profondità di Moro, con la capacità di visione di Moro, Moro aveva capito che non ci sarebbe stato più niente da fare. Il segreto di Antonio Ferrari, un romanzo da leggere, una storia ancora non conclusa e amaramente possiamo dire che se ancora a 40 anni di distanza non si ha la parola fine su questo caso, significa che la nostra democrazia è incompiuta.